È il momento del nostro ospite in studio, benvenuto Luca Varone, attore e produttore di una bella rassegna teatrale. C'è stato un progetto chiamato Sherry Gat con Residenza Artistica e da stasera a Poggio Merino una rassegna fino al 19 settembre. I racconti della villa, cofinanziato dalla Regione, Direzione Artistica Luciano Giuliano, nove spettacoli. Quali? Sì, nuovi spettacoli, nuovi appuntamenti che partono da stasera per i prossimi tre weekend. Abbiamo stasera apre la rassegna Gianni Parisi da Ponente a Levante. Poi domani sera ci sarà proprio Luciano Giuliano con lo spettacolo Sensibile, la regia e il testo di Luciano Melchionna. E sabato abbiamo con la regia di Giovanni Esposito il bacio a mano con Susi del Giudice e Giulio Cancelli. Dove si può vedere il programma? L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo. Siamo nella masseria di Boccapianola, quindi stiamo portando un po' di luce in una zona provinciale della Campania e grazie al coraggio di Rosaria Marano con la sua associazione e di Danilo Gigante perché ci sarà anche un percorso di una mostra pittorica. Vi aspettiamo e siamo lì tutte le sere, giovedì, venerdì e sabato alle ore 21. L'ingresso è gratuito. Grazie a questo appoggio marino, un luogo senza teatro, in un momento in cui il teatro è importante. Grazie a Luca Varone. L'appuntamento con la rubrica Il Leggilibri è spostato al... Grazie a tutti.